Bentornati su Soluzioni PC. Oggi andremo a vedere come trovare e eliminare i file obsoleti su Windows 11. Windows 11 rispetto ai vecchi Windows offre alcune opzioni interessanti che andiamo subito a vedere per trovare e eliminare i file in modo selettivo o in modo automatico. La prima utility che andiamo a vedere è il classico pulizia disco. Un vecchio amico di tutti i Windows ci permette di eliminare in modo automatico ma anche manuale file obsoleti o file temporanei. Per aprirlo su Windows 11 nella barra di ricerca digitiamo pulizia disco. Fa una diagnostica iniziale e poi come potete vedere abbiamo varie voci tra cui il cestino, i file temporanei che noi possiamo selezionare tutte quante, anche tutte in realtà. Molte molto spesso sono di pochi kilobatt però... Una volta selezionate le voci che ci interessano, premiamo OK e in automatico eliminerà questi file. Il secondo tool che andiamo a vedere sono i consigli per la pulizia. Andiamo su Start, Impostazioni, Sistema, Archiviazione e qui avremo una panoramica di come sono distribuiti i file sul nostro PC. In basso troveremo Consigli per la pulizia. Qui già ha fatto una prima analisi in cui mi dice che ho, se voglio, 5 giga da poter liberare. Cliccandoci dentro abbiamo varie opzioni. All'inizio si parla dei file temporanei, quindi file temporanei di installazione o i file che sono all'interno della cartella download. Questi di solito potrebbero essere importanti, quindi è meglio dare un'occhiata prima. Abbiamo altre voci, tra cui i file di grandi dimensioni o inutilizzati. Qui abbiamo dei file inutilizzati e qui sotto abbiamo dei file di grandi dimensioni, come per esempio questa installazione di Windows 11 o quest'altra di Windows 10, che ci possono far liberare una buona fetta del disco. Abbiamo anche in basso i file sincronizzati in cloud, ma nel mio caso non ci sono perché non ho collegato servizi in cloud. E le app inutilizzate. Qui vi compariranno eventualmente delle app che voi non utilizzate mai, quindi potete eliminare. Questo consiglio per la polizia mi sembra un buono strumento perché permette in modo molto selettivo e automatico di trovare i file che non si utilizzano o che potrebbero essere molto ingombranti nel vostro sistema. Quindi una volta selezionato il file che volete eliminare, lo selezionate qui con la spunta e premete il tasto pulisci. L'altro tool di cui vi volevo parlare si trova sempre sotto la scheda archiviazione ed è il sensore di memoria. Questo principalmente lavora in automatico. Attualmente è attivato, ma di standard lo è sempre. Possiamo entrare dentro per vedere quali sono le opzioni. Il sensore di memoria si attiva principalmente quando lo spazio su disco non è sufficiente. Quindi in automatico va a pulire per esempio la cartella di download, ma nel mio caso non è selezionata, il cestino e altri posti all'interno del disco per liberare immediatamente memoria qualora ne fosse necessario. Qui si può fare in modo che il sensore di memoria venga attivato manualmente, quindi premendo su esegui ora, oppure si può scegliere di farlo girare ogni giorno, ogni settimana oppure ogni mese. Questa è una pulizia abbastanza simile a quella del pulisci disco, ma è automatica, si può settare in modo automatico. Di standard comunque le opzioni sono queste qui che vedete. Io non le ho toccate, l'ho semplicemente aperto. Il sensore di memoria si attiva solamente quando lo spazio non è sufficiente. Vengono cancellati i file del cestino oltre i 30 giorni e vengono eliminati i file che non sono mai stati aperti dalla cartella download, però è disattivato. Con questi tre strumenti potete tenere sotto controllo quelli che sono i file obsoleti o di grandi dimensioni all'interno del vostro PC in modo tale da tenere sempre un PC snello e scattante e non avere mai problemi di spazio. Questi tre tool sono facilissimi da utilizzare. Spero che sia stato chiaro. Se avete delle domande potete farmele nei commenti. Vi prego di lasciare un like se vi sono stato utile e di iscrivervi al canale per altre soluzioni PC. Detto questo ci vediamo a un altro video. Ciao! 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 Grazie.